Si sperava che il patriarca ortodosso Kirill, pur nella sua notoria buona predisposizione nei confronti di Vladimir Putin e del Cremlino, dicesse una parola contro la guerra, contro lo scattinamento delle ostilità, è successo esattamente il contrario. Ieri, e lo si è saputo oggi, in Occidente c'è stato un sermone che tutti gli organi di stampa definiscono sermone shock di Kirill, cosa ha fatto? Nella Domenica del Perdono, ieri il patriarca di Mosca ha giustificato di fatto l'intervento in guerra della Russia, dopo che testualmente per otto anni ci sono stati tentativi di distruggere ciò che esiste nel Donbass, dove c'è un rifiuto fondamentale dei cosiddetti valori che oggi vengono offerti da chi rivendica il potere mondiale. Per Kirill oggi esiste un test per la lealtà a questo governo, una specie di passaggio a quel mondo felice, il mondo del consumo eccessivo, il mondo della libertà visibile. Sapete cos'è questo test? È molto semplice e allo stesso tempo terribile. È una parata gay. Ora, è evidente che Kirill mette insieme tutte quelle che sono le modalità del nostro mondo, della democrazia liberare, della Europa occidentale e dell'Occidente in contraposizione con la tradizione della Santa Madre Russia e dell'Est Europa. Sono parole non del tutto dissimili, mutatis mutandis, rispetto al manifesto con cui il leader ungherese Orban si è contrapposto alla democrazia liberale europeista. Se andiamo a vedere la rivendicazione della famiglia cristiana nei confronti delle nuove modalità di famiglia, appunto con l'accettazione delle diverse sessualità. La rivendicazione di quella che è la tradizione rispetto all'universalismo cosmopolita. Questo attaccamento alla tradizione però arriva a giustificare un intervento armato e questo, diciamoci francamente, è dalla Seconda Guerra Mondiale che non lo vedevamo.